Di Vatino usavo ogni anno delle piccolissime, minuscole agendine. In terza di copertina normalmente metteva queste tre parole, queste tre lettere, STD. Quando viene ritrovata l'agenda del 90, gli inquirenti pensano subito che il magistrato voglia fare riferimento a una particolare pista che potrebbe ricondurre i mandanti. In realtà la minuta della sua tesi di laurea mostra quell'acronimo scritto per esteso, Subtutela Dei. Il mettersi sub tutela di qualcuno o di un santo, più frequentemente della sede apostolica, della Santa Madre di Dio, questa è una formula classica. In genere sono testi di profughi, cioè di persone che sentono la persecuzione e capiscono che l'unico loro aiuto è Dio, l'unico loro aiuto è il Signore. Quindi la frase è un atto di affidamento. Rosario giornalmente parcheggiava la sua autovettura davanti al tribunale e raggiungeva la chiesa. Noi non ce ne siamo accorti di questa sua abitudine religiosa di raccogliersi in preghiera prima di iniziare la sua giornata. Come tante altre cose abbiamo scoperto questa sua pratica solamente alla morte perché il titolare del santuario della parrocchia si ricordò in una sua testimonianza di questo giovane magistrato in preghiera che ogni giorno si inginocchiava negli ultimi banchi della chiesa in raccoglimento. Non c'è separazione tra fede e vita. Egli non intende la sua professione di magistrato estranea a tutto quello che ha vissuto durante la sua adolescenza, nella formazione cristiana, nella partecipazione alla vita della chiesa, nella sua vita di preghiera. Non lo ritiene estranea. Rosario aveva la spina del suo cuore inserita nella presa del cuore di Dio. E questo è importante, no? Perché di là riceveva la luce. Nelle leggendine si legge una espressione Oggi vedo nero nel mio futuro che Dio mi perdoni. Qualcosa si è spezzato. Dio avrà pietà di me e la via mi mostrerà. Succede che quasi certamente lui ha subito un'intimidazione come quella che quasi tutti i giudici che trattavano a processi in quell'epoca hanno avuto a dismisura. E la viltà era che la minaccia era stata rivolta ai suoi genitori. È come se non si sentisse più idoneo. E vede dei comportamenti all'interno dell'ordine giudiziario che non sempre sono consoni al giuramento prestato. Però sempre nelle sue agende fa riferimento appunto a Dio. Chiede sempre perdono a Dio. Non fa altro che chiedere perdono a Dio. E non fa altro che augurarsi che il Signore possa in qualche modo aiutarlo. Aiutarlo a ricomporre quei pezzi, come scrive lui stesso, che dentro di lui sono ormai spezzati. Avrebbe potuto certamente chiedere di occupare un posto meno impegnativo, meno esposto in quel periodo, chiedendo ad esempio di passare alla sezione civile. Però ha voluto rimanere. Ha voluto rimanere sempre al suo posto perché qui il Signore l'aveva chiamato appunto a svolgere questo importantissimo compito che è quello di rendere giustizia, come lui amava ripetere nelle sue conferenze. Ora non voglio esagerare, ma quella scrivania era la continuazione dell'altare. Perché era là che viveva il suo sacrificio quotidiano, il suo farsi pane spezzato. E come quando vado in chiesa sento lo sguardo di Dio, anche in quell'ufficio attraverso lui arrivava lo sguardo di Dio, anche sul cattivo di turno. Lui è un cristiano, ma è un cristiano che tende alla perfezione. In lui c'è l'incontro con Cristo, che cambia totalmente la sua vita. E ovviamente quindi tutto acquista una dimensione che diventa sublime. Santi si diventa attraverso un cammino che talvolta è una corsa ad ostacoli. La vita cristiana perfetta non consiste nella pace del chiostro, non consiste nella moltiplicazione di orazioni, eccetera, ma la vita perfetta consiste nel combattimento. E che Livatino abbia vissuto nel cammino della sua vita umana e cristiana, che abbia attraversato questi momenti, diremmo è nel ritmo della santità. Proprio qui consiste in qualche maniera la fedeltà del quotidiano. Quando pensi a Livatino è un uomo che ha vissuto la sua povertà. Non è che diceva io sono, io faccio, tu non sai chi sono io. Era il povero di spirito. Era l'uomo che ha dovuto soffrire anche, perché il timore che altri potessero ricevere del male a causa sua. E' stato un uomo che ha saputo guardare lontano perché aveva gli occhi puliti. Io se devo pensare a Livatino, penso a lui come biati miti. Perché era un uomo mite. E l'uomo mite possiederà la terra.